Ciao, indovinate dove sono. Quando ci sono dei tetti di pietra o colonne di pietra come questi, sono in vessinia. Alle mie spalle vedete l'edificio che dovrò ristrutturare assieme a ogni impresa qui del posto dove addirittura andremo a realizzare un ascensore al suo interno e faremo tutti i solai e isoleremo il controterra e ricaveremo due nuovi bagni all'interno di quell'edificio lì e cercheremo poi anche di mettere a risalto le peculiarità principali di questi edifici che sono sempre meravigliosi come dal Tonner in questo contesto che è il più naturale possibile ed è rimasto ancora intatto.